E Taranto in questo momento proprio io quello che penso è il paradigma assoluto di tutto quello che sta succedendo nel mondo, dove il Covid è l'ILVA ed è proprio incredibile perché in questo caso chi gestisce il virus, quindi l'ILVA, l'Arcello Mittal, è spietato, cioè è una roba incredibilmente spietata nei confronti anche proprio del lavoro da gli stessi. Immaginatevi il Covid, tutte le strutture che contengono appunto i malati, vanno contro addirittura i lavoratori stessi che stanno cercando in tutti i modi di superare questo momento. Perché dico questo? Perché proprio di pochi giorni fa una notizia allucinante, perché non trovo altre definizioni, è proprio di un lavoratore che è stato licenziato proprio perché ha denunciato lo stato dei lavoratori all'interno di quel mostro, che sono senza mascherine, che non hanno i disinfettanti. Quindi potete capire quanto è spietato, quanto è proprio incredibilmente simile ad una situazione, sono prigionieri i lavoratori di uno stallo messicano che perdura nel tempo.